Allora, ho appena lavato i capelli e sono un disastro, sembra un po' un altro componente dei Beatles Non so perché mi è venuta la testa così, ma appena crescono un pochino i capelli Sono un disastro, cioè perdono completamente la linea, ma non fateci caso Ciao ragazze, allora eccoci con un nuovo video Un video che sono molto felice di girare perché in questo video qui io vi racconterò un brand che ho scoperto Che ho scoperto io personalmente tramite Instagram Allora, io Instagram lo adoro veramente perché mi fa scoprire tantissime persone, tantissimi profili E io spesso e volentieri mi metto lì magari alla sera o quando ho un minuto di tempo libero E mi metto a scorrere le foto appunto di Instagram per andare alla ricerca di profili, di persone che possono interessarmi Brande nuovi E quel giorno lì mi sono imbattuta in una foto, in questa bacheca, mi sono imbattuta in questa foto stupenda C'era questo cane tutto bianco, super bellosissimo con questo prodotto a fianco di una finezza, di un'eleganza mai vista Cioè questo nero, questo boccettino nero a fianco a questo cane è davvero molto elegante e raffinato E così mi ha incuriosito tanto, sa che prodotto può essere e che possa andare bene per i cani Perché io l'ho visto vicino a questo cane quindi ho pensato e dedotto che fosse un prodotto per animali Infatti sono entrata all'interno della foto e mi sono imbattuta in un profilo privato E in questo profilo privato c'era appunto questa foto che taggava questo brand Così a mia volta sono andata a ricliccare in questo brand e sono finita in questa pagina Instagram Veramente stupenda Allora il brand in questione è questo Bondi Wash Allora, come vi ho detto sapete che io sono molto trasparente Sono una persona molto sincera e quindi ci tengo veramente a dire che è un marchio che ho trovato io Che ho scoperto io e che ho contattato io Quindi voglio davvero essere super chiara e super sincera perché il mio canale è proprio così Quindi non mi va di dirvi che è un'azienda che mi ha contattata che non è assolutamente vero L'ho contattata io E adesso vi spiego come vai Allora, questa foto di questo cane mi ha incuriosito veramente tanto Perché tutto ciò che è prodotto per animali a me interessa sempre molto Perché come sapete abbiamo Zoe in famiglia Che è una cagnolina e un beagle Quindi tutti i prodotti per quanto concerne gli animali Io sono sempre molto attratta Perché a me piace avere non solo la casa pulita Ma anche il cane Per far sì che la mia casa rimanga comunque Nonostante la presenza di un animale rimanga sempre profumata E quindi vado sempre alla ricerca di prodotti proprio apposta per lei E siccome è un cane abbastanza delicato Nel senso che noi la teniamo tanto in casa Ci tengo a usare sempre prodotti comunque ottimi e di qualità Allora, comunque, vado le ciance Mi sono imbattuta in questo profilo qui E sono andata un po' a curiosare E sono andata a documentarmi Sono andata a leggere E ho visto che non solo trattava prodotti per animali Ma anche per il corpo Per la casa E quando ho visto appunto i prodotti per la casa Ho detto aspetta me Devo assolutamente andare all'interno di questo sito E sono entrata all'interno di questo sito E ho visto, mi si è aperto proprio veramente un mondo Ho visto tantissimi prodotti ottimi Veramente ottimi E poi con questo pack, con questo design davvero di classe Cioè bellissimo Così mi sono messa in contatto con l'azienda Per appunto prendere questi prodotti Per provare questi prodotti Mi sono messa in contatto con appunto l'azienda E mi ha risposto una ragazza Veramente gentilissima Chi si chiama Sara Che mi ha dato informazioni appunto su questi prodotti Abbiamo chiacchierato un pochino Le ho spiegato che ho un canale YouTube E tratto prodotti per la casa E l'ho informata Perché volevo veramente essere sincera anche con lei Perché mi incuriosiva a provarli Per poi anche parlarne a voi Se fossero stati prodotti ottimi Ci siamo detti un po' di cose Appunto ho messo un po' a parlare di questo E lei ha accettato di farmeli provare E quindi non li ho acquistati Ma mi sono stati inviati da loro Ho avuto l'opportunità di provarli In tutto questo periodo qui E sono rimasta colpitissima E quindi ho deciso di metterci la faccia E girare questo video Proprio per parlarvene Perché davvero mi è piaciuto proprio Il meccanismo che si è creato fra me e loro In particolare con Sara Allora, sono prodotti ottimi Sono prodotti super naturali Prodotti veramente molto molto raffinati Il pack, come vi ho già detto mille volte in questo video È davvero bellissimo Quindi oltre che la qualità del prodotto C'è anche la qualità estetica La bellezza estetica Che, come sapete Per noi donne È anche abbastanza importante quello Nel senso che avere un prodotto Che fa andamento Va sempre bene E allora Che dirvi di questo Questo marchio Ci tengo veramente a descrivervelo A parlarmene Perché mi è piaciuto davvero tantissimo Allora Qua dice che Bondi Wash Combina l'incredibile efficacia E le fragranze uniche Della flora australiana Con un lussureggiante mix Di oli essenziali Ed ingredienti Attivi naturali Per dar vita ad una linea di prodotti Che faccia bene a te Alla tua casa E rispetti l'ambiente E questa è un po' La presentazione di questi prodotti Allora Contengono più del 99% Di ingredienti vegetali E nessun componente Potenzialmente nocivo I prodotti sono biodegradabili Non tossici Fai comunque dice Tantissime cose Dice che Anzi Bondi Wash Sono realizzati come profumi veri E propri A partire da Essenza Autenticamente australiane Comunque Non mi soffermo più di tanto Se no al video vive veramente chilometrico Comunque sono prodotti Davvero di ottima qualità E potete trovare Una vasta Scelta di prodotti Per la casa Per il corpo Per i bambini E per gli animali Quindi veramente Un'ampia scelta Allora Dall'azienda Me ne sono stati inviati Tre da provare Ma io sicuramente A breve li contatterò E acquisterò Altri prodotti Perché mi sono veramente Piaciuti tantissimo Allora Il primo di cui vi voglio parlare Che è quello su cui Mi sono soffermata Un pochino di più Perché è quello che mi ha Incuriosito di più È il Dry Dog Wash Allora È un prodotto Top Che io ho usato Per Zoe È un prodotto Che dovete utilizzare Tra un lavaggio e l'altro Del vostro cane Per mantenerlo Comunque sempre profumato È un prodotto Come vi ho detto prima Naturale Non tossico È davvero Toppissimo È un prodotto antibatterico Super profumato E che mantiene il pelo Del vostro cane Lucido Morbido E appunto Molto profumato E top Veramente Io glielo ho sparso un po' Qua nel pelo E poi l'ho massaggiata Con Questa spazzolina E devo dire Che le è rimasto Un pelo Top Veramente Bellissimo E quindi Un prodotto Super 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 Valido E sono rimasta Molto colpita Il secondo prodotto Che mi è stato inviato Da loro È il Bench Spray La profumazione Pepper E Lavander È buonissimo C'è il prodotto C'è il formato Da 125 Se non sbaglio Da 250 E da 500 Se non erro E trovate Tre tipi di profumazioni Ogni profumazione È indicato Da un numerino 010203 Quindi voi potete Scegliere Il vostro formato Preferito Quello che più Mi si addice E la profumazione Che vi Incuriosisce Di più Il prodotto Qui è un prodotto Testato Per eliminare Il 99% Di germi E batteri È un prodotto Che voi potete Utilizzare Anche con la presenza Di animali domestici E di bambini Ed è un prodotto Che potete Appunto andare A spruzzare In qualsiasi Superficie E tessuto Io ad esempio Lo utilizzo Anche per pulire I tessuti Quando magari Zoe entra in casa E ha le zampine Un pochino sporche Quindi mi sporca Il divano Mi sporca Un cuscino Quindi lo utilizzo Sia sulle superfici Classiche Che anche Sui Sui tessuti Poi L'ultimo prodotto Che mi è stato inviato E questo A me che c'è tantissimo È questo qua Il mist spray E È un prodotto Che andate A utilizzare Negli ambienti Per igienizzare Ad esempio In bagno In macchina All'interno Degli armadi È un Vaporizzatore naturale Che oltre che È a rinfrescare L'ambiente A eliminare I cattivi odori E a disinfettare L'ambiente Quindi Top Voglio ammettere Che è un prodotto Che io vi porto A volte anche in borsetta Utilizzo Tanto Ho utilizzato tanto In questo periodo Infatti Non dico che ce n'è Ormai un po' meno Della metà Ma quasi E lo spruzzo In macchina Lo spruzzo In bagno Lo spruzzo In lavanderia Lo spruzzo Magari dopo che Viene gente in casa All'interno Delle stanze Quindi vado A igienizzare La mia casa Con questo prodottino Per quanto riguarda Questo prodotto Voi potete trovare Due taglie Quindi due formati Da questo qua C'è il 50 ml Che è questo piccolino mio Quindi un pochino Più tascabile E poi c'è quello Un pochino più grosso Che è il 150 ml Allora Questo video termina qua Spero che questo video Vi sia piaciuto Perché è stato Un video davvero Molto trasparente E soprattutto Molto sincero Quando scopro Prodotti Mi piace sempre Raccontarveli Sia prodotti Che mi Vengono inviati Ma anche prodotti Che acquisto io E diciamo che sono Per lo più La maggior parte Comunque Quando vado Alla scoperta Appunto Di prodotti nuovi Mi fa sempre piacere Proporveli Raccontarveli Perché mi piace Proprio questo scambio Perché mi può Sempre essere utile E quindi Che dire Andate a visitare Questo Sito Vi lascio Tutto qui sotto Nell'infobox Tutti i social Tutti i riferimenti Comunque Se vi è piaciuto Questo video Mi raccomando Pollicini in su Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Perché non costa davvero niente Basta solo cliccare Qui dove vedete La mia faccina E niente Io con questo video Qui vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo Video Ciao Ciao